Considerato il successo milionario di Plants vs Zombies, il team di sviluppo PopCap Games decide di allargare i confini del brand, pubblicando Garden Warfare, insolito shooter in uscita su Xbox One e Xbox 360, e più avanti anche per PC. Si tratta di un titolo esclusivamente online, divertente e leggero, che rappresenta nell'ambito di un genere fin troppo abusato una deriva tutto sommato originale. Con Plants vs Zombies Garden Warfare, i ragazzi di PopCap ci riportano nel bel mezzo dell'epico scontro tra vegetali e non morti, trasformando il loro tower defense in uno sparatutto online in terza persona, un genere con il quale i ragazzi di Seattle non si erano mai cimentati prima ad ora. L'esperienza che il titolo vuole proporre è sicuramente rilassata rispetto a quella del medio Call of Duty, brand del quale non a caso Garden Warfare canzona amabilmente il nome. La spensieratezza in effetti è dominante in questo shooter, eppure scontro dopo scontro si svela una profondità strategica, inizialmente insospettabile. Garden Warfare presenta sin da subito un ritmo frizzante e una buona profondità. Gli sviluppatori hanno riciclato una parte del sistema di classi già visto nei due capitoli mobile, e ridotto a quattro le scelte per fazione. Per fortuna sono stati studiati molto a fondo i rapporti di forza e debolezza tra i vari combattenti che è possibile scegliere all'inizio di ogni match. Ogni classe è stata dotata di tre abilità speciali, che si sbloccano progressivamente man mano che si spende tempo con ognuno dei combattenti sul campo. L'utilizzo intelligente delle skill è assolutamente fondamentale per mantenere buone prestazioni sul terreno di scontro. Garden Warfare è comunque un titolo fortemente basato sulla cooperazione, e anche le due modalità competitive disponibili pongono grande enfasi sul gioco di squadra. Su questo fronte troviamo un classico death match a squadre, che permette già di sperimentare abbondantemente quelle prime abilità, in un contesto dove la strategia conta sicuramente meno. Ma il cuore dell'esperienza competitiva è racchiuso nella modalità punti di controllo. Quest'ultima presenta lunghe partite strutturate come playlist, declinate quindi in una serie di scontri da tenersi su varie mappe, per poi arrivare alla grande battaglia finale. Molti sentiranno la mancanza di una modalità singolo giocatore in Garden Warfare. Effettivamente, dato l'ottimo lavoro di caratterizzazione stilistica svolto sui personaggi, una componente offline accompagnata da un aspetto narrativo avrebbe sicuramente potuto aggiungere molto al contesto. In ogni caso, gli sviluppatori hanno affiancato alle due modalità competitive una cooperativa per quattro giocatori, da affrontare solamente nei panni delle piante. Difendendo un piccolo giardino si dovrà resistere a ondate progressive di zombie sempre più affollate e rese varie dall'occasione all'intervento dei boss, non morti particolarmente aggressivi e dotati di abilità uniche. Non si tratta certo di una modalità innovativa, ma le abilità delle singole classi lavorano sempre molto bene in concertazione, fornendo ai giocatori tutti gli strumenti per lavorare sulle tattiche di gruppo. Non c'è shooter online che si rispetti senza un sistema di crescita e sblocchi e PopCap si è prodigata anche in questo campo. Sarà possibile acquistare dei pacchetti di figurine ed ognuna corrisponderà ad un potenziamento, la varietà insomma non manca e il titolo si rivela bello denso. Dal punto di vista grafico Garden Warfare fa un buon uso del Frostbite Engine, che si scopre adatto anche ad utilizzi dello stile meno realistico rispetto a quelli tradizionali. La definizione delle texture non è eccelsa, ma l'effettistica non delude e soprattutto si fanno notare le buone animazioni dedicate alle varie classi. Plants vs Zombies Garden Warfare si rivela una gradita sorpresa. Come sempre abilissime nel caratterizzare le loro produzioni, i ragazzi di PopCap superano brillantemente la prova sparatutto, con un gioco non solo divertente e scansonato, ma anche piuttosto valido tatticamente e ben bilanciato, in grado di tenere impegnati per diverso tempo.